Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Noi, non ti segue, non ti segue! Sì, se qui! Ma no? Akari nel ciò che fai! Ma ando in beh! In beh! Ma ando sui chiamati! Kari? Akari? Momandro? Tieni! Mi piace! E' un po' di più! Ma di un po' di più! Ma di più iniziare! Un po' di più iniziare! Oh, sono mostrando la leaderboarda sul streamo, dietro me. Oh, nice! Sui è in 10th! Si, non è vero, è vero qui? Il primo che ha detto. Sui è in 10th?! Sui è in 10th! RIP BOZO! Ha già giocato Apex? Ha già giocato! Oh, si, ha giocato a presto, non? Non è giocato a Prato, Prato. Prato, Prato, Prato. Uniii! Oh, mi devo giocato. Ma, anche perchè, mi credo che è riuscato alla corsa! Oh, bellissimo! Oh, bellissimo! Vero, bellissimo! Oh, bellissimo! Oh, bellissimo! Il�ice, bellissimo! Non ti blue. Non ti fanno subito male ma la Lucia. Non ti fanno. Non ti fanno termine. Non ti fanno tutto in due round. Mi sono passi molto bene. Oh no, devi pulire. 1 seconda, abbiamo fatto. Buongiorno Chiedi di uno a tutti. Non si è così. Non so. Non so. Non so. Non so. Sono davvero. Non so. Non so. Non so. Non so. non c'è bisogno dai brosa dai non no Oh no no pugenai! I don't know Like that fence Look at that little dick fence right there You actually outplayed him like that You actually outplayed him I'll play them with that I think we got circle and then let them come to us Oh yeah, yeah, yeah Because they're the last two squads I'm gonna Oh fuck, oh fuck Oh fuck Oh fuck Celine Celine Don't come I'm the IGL Me I'm the IGL, you hear me? Yeah, I hear you Can you rez me, Danny? I'm back at my ulti And You I I I I I I Sì 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 Non c'è nessuno che non c'è nessuno Ma questa volta è iniziata Non c'è nessuno C'è un pochetto! ... Sì, è vero che è successo! Non c'è... C'è l'arri? 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 ...d'accordo? ...d'accordo? Grazie! Lo like that fence? Look at that little dick fence right there. A little micro penis fence. A little micro penis fence, bro. And it muckin' stunned him. Jackyaboo! I love that. Yo we got loot boys! What up? I actually just got baited. Got baited, idiots. Alright, I'm going bottom floor, permanent lane. I'm gonna kill them I need to stop running on me Who do you think you also saved me Guys I'm on him I know name he's alone he's alone laying on him Check out this area